E bufera sui caschi bianchi di Napoli dopo che quattro vigili urbani delegati della CISL si sono dimessi per aver abusato dei permessi, usufruendone durante le festività e persino nel giorno di Natale. La denuncia nei giorni scorsi del delegato della CGL, Gennaro Martinelli, che ha svelato l'abuso dei permessi, ha sollevato un polverone. Il sindaco, Luigi De Magistris, promette di scovare e punire i lavativi e ricorda che la disonestà di pochi non deve ricadere sui tanti. Il fatto sta che Martinelli ed altri continuano a ripetere che molti hanno fatto finta di non vedere e di accettare anche il potere esagerato di alcuni sindacalisti, che sarebbero addirittura intervenuti in gare di appalto. C'è chi avrebbe cercato persino di fare pressioni sul primo cittadino per la scelta del futuro comandante dei vigili urbani. Su questo però il sindaco precisa di essere impermeabile a qualsiasi suggerimento o forma di corruzione. Intanto Lina Lucci, segretario regionale della CISL, si è detta disponibile ad essere ascoltata dalla procura di Napoli per dire la sua verità. Minimizza il potere che venne riconosciuto ai sindacati nella gestione della cosa pubblica e sui delegati che si sono dimessi precisa hanno dimostrato senso di responsabilità.